Buongiorno dalla relazione di Eccore Portesi di Putifibari. Io sono Aurora Cadeo, siamo in cucina con Elisabetta Piras per la rubrica Il cucina non si butta via niente. Oggi ci preparerà? Oggi vi preparerò un modo per riutilizzare il pollo una volta che vi è avanzato, facendo una grande insalata con verdure miste. Io qui ho preparato alcune verdure, dell'iceberg, delle carote, dei pomodori, del radicchio. Se ti lavi le mani mi dai una mano, ok? Ok, possiamo iniziare. Tagliamo i pomodori. Questo è il radicchio rosso. Ok, la stessa cosa facciamo con l'iceberg. I pasti e la carota. Facoltativa, però a me piace l'idea di fare dei filini in questa maniera, che sono colorati, che sono buoni. Passiamo all'ingrediente, insomma, più sostanzioso probabilmente. Questo povero pollo, che io ora maltratterò, se riesco. tolgo tutta la parte con le ossa. Questo era un pollo alla diavola. Passiamo alle nostre scaglie di grana. Io abbondo. Un po' di sale. Un po' d'olio. Un po' di glassa, di aceto balsamico, ma proprio più per decorare, così. Concludiamo con i nostri crostini. E pane raffermo. Il pane che mi era avanzato, io l'ho tagliato a cubetti. L'ho messo in padella, con un filino d'olio e del sale. E questo è il piatto. Adesso mi aiuti a mettere via. Chi lava i piatti? Tu o io? No, che è il mio cane. Grazie. 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 Grazie.